A Proda in Consiglio Comunale il piano triannale delle opere pubbliche approvato dalla giunta del Sida Coettore di Ventura lo scorso mese di agosto. Il punto infatti è stato inserito all'ordine del giorno della prossima seduta che si terrava in erdì 27 ottobre con inizio alle 19. Tra gli interventi pianificati ci sono i lavori di adeguamento e consolidamento strutturale delle scuole Rapisardi e La Carruba, chiuse poco più di un anno fa per inagibilità, per cui si dovrà aspettare il 2018 in attesa di trovare i fondi necessari per coprire le spese da sostenere. Stimate in 1.105.000 euro per la Rapisardi e 663.000 euro per La Carruba. Si dovrà aspettare il prossimo anno anche per avere un nuovo stadio a Canicattì. I lavori per la ristrutturazione del carotto a Bordonaro con la collocazione dell'erba sintetica prevedono una spesa di 650.000 euro per il quale il Comune ha già ottenuto l'ok dall'Istituto del Credito Sportivo per un finanziamento con un mutuo a tasso zero per il quale manca soltanto l'attestazione della disponibilità finanziaria da parte dell'ente. Entro la fine dell'anno, invece, saranno compiuti gli interventi finanziati con i fondi di compensazione per i lavori di raddoppio della Statale 640 che riguardano la demolizione e la ricostruzione delle teorie 8 e 9 della sezione C e teorie 9 e 10 della sezione D del cimitero di Via Nazionale, in tutto 330.000 euro, spesa che verrà coperta per 270.000 euro dai soldi che il Comune ha incassato con la vendita dei nuovi loculi realizzati nei mesi scorsi. L'impegno finanziario dell'ente proveniente dal bilancio ordinario sarà di 60.000 euro che serviranno ad integrare i fondi accumulati. Altri interventi inseriti sono il completamento delle strade in contrada a Giarre, 560.000 euro, e nel contrada a Laterizi, 300.000 euro. Nel piano anche la riqualificazione del centro storico di Piazza Nassiria e di Contrada Reda, l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle sedi comunali. In totale sono 98 le opere inserite nel programma triennale 2017-2019, approvato dall'amministrazione di Ventura. L'aula sarà chiamata anche ad esprimersi sulla ricognizione dei beni comunali, suscettibili di dismissione o valorizzazione e solupravazione dello schema del piano di alienazioni o valorizzazione di immobili da allegare al bilancio di previsione 2017 e sul riconoscimento di un debito fuori bilancio. In scaletta pure le interrogazioni e la mozione sul cargiver presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Fabio Falcone. Si preannuncia una riunione da Toni Caldi dopo le ultime scelte politiche di alcuni consiglieri di Uniti per Canicati che hanno eletto con una evidente spaccatura Gian Gaspari Di Fazio come loro capogruppo.